Inauguriamo ufficialmente la Biennale dello Stretto 2022, arriva da lontano perché il progetto di 500% nasce sette anni fa e attraverso il dialogo come strumento di progetto, attraverso le interviste e la conoscenza di tante competenze, Alfonso Fimi ha messo in piedi questo progetto con tantissimi compagni di viaggio, io sono uno di quelli, Giorgio Tartaro, giornalista, e oggi racconteremo che cos'è questa Biennale. Ieri arrivando qui sono rimasto sorpresissimo da questo luogo come immagino tutti voi, soprattutto coloro che non lo conoscevano magari, ma che non l'hanno sicuramente mai visto allestito in questo modo. Quindi già il fatto di essere qui oggi è una sorpresa, una lieta sorpresa. E mi sono ripromesso in questi cinque giorni di imparare tanto, perché questo progetto inclusivo che ha portato dentro veramente tutti, sarà un modo, un luogo, un sistema, un tempo, come direbbe Alfonso, per imparare. Sarò velocissimo, sarà un laboratorio permanente internazionale, non è una Biennale che inizia e finisce. Inizia oggi è andrà per sé, un po' come un Big Bang. Mi è venuta questa immagine, visto che siamo in una polveriera, quindi ci sta perfettamente, ma è un luogo di difesa che non ha mai funzionato, nel senso che è stato costruito, ma poi lasciato proprio per questa Biennale. Quindi chiamerei i curatori Alfonso Femia e Francesca Moraci sul palco a raccontare molto meglio di me quello che hanno pensato per questa. E poi chiameremo i nuovi, i nostri amici di oggi, i compagni di viaggio, le autorità. Però prima un saluto del sindaco di Campocalabro, Rocco Alessandro Repaci. Prego. Sentivo prima raccontare questo luogo e mi sono di nuovo emozionato. Prego sindaco. Benvenuti a Forte Batteria Siacci, la più grande delle fortificazioni dello stretto di Messina. O meglio della costa calabrese, c'è il collega, noi abbiamo un gemello qua di fronte, si chiama Forte Masotto. Questi due forti avevano una caratteristica che io credo si inquadri perfettamente nella dimensione culturale nel quale questo evento l'ha calata. Questi forti avevano la caratteristica di essere invisibili dal mare e venivano costruiti sul fianco delle colline naturali oppure con un sistema di terrapieno. L'avvento dell'arma aerea, quattro o cinque anni dopo la loro costruzione ne rese praticamente inutile l'utilizzo bellico e sono rimasti invisibili dentro un Mediterraneo che spesso è invisibile o che è comunque pieno di luoghi invisibili. Noi per prima cosa, come diceva un mio caro amico sindaco di Palermo, che diceva che la prima cosa che ha fatto quando è entrato al Palazzo delle Aquile ha cambiato le lampadine dei lampadari. Noi abbiamo tagliato i rovi, questo ponte sotto il quale siamo lo ricordavano solo le guardie giurate che avevano sorvegliato il forte fino agli anni Ottanta. Questa corte era completamente piena di rovi, queste stanze erano piene di macerie. Noi abbiamo cercato intanto di dare luce a un luogo che è comunque rimasto silenzioso con questa architettura imponente, con l'acciottolato che è sotto questa sabbia per motivi appunto di allestimento. I curatori hanno deciso di ricoprirla, queste architetture imponenti e nello stesso tempo fragili perché corrosi dal tempo. Noi abbiamo altre due fortificazioni che sono costruite sullo stesso impianto, sono sussidiarie, forte Poggio Pignatelli che abbiamo già ristrutturato, batteria, deposito munizioni materniti inferiori che una cartolarizzazione improvvida ha fatto finire nelle mani di una società privata. Per cui abbiamo scoperto che ci vorrà una legge dello Stato per restituirla al demanio del comune e anche alla proprietà intellettuale della gente perché se c'è una cosa che non sapete è che molti campesi non hanno visto questo luogo. Sono nati e sono morti senza poter vedere questo luogo dove c'è la sbarra all'ingresso c'era una sagoma in grigio verde di un soldato che imponeva l'out, sotto c'era scritto farsi riconoscere di vieto di fotografare, di vieto di rilievi topografici. Troverete ancora in giro questi cartelli arrugginiti che abbiamo lasciato là apposta perché sono la testimonianza del fatto che la nostra comunità, e adesso una comunità più grande mi sembra, si riappropria di questo luogo nel quale era vietato persino fare fotografie. Quindi noi abbiamo conosciuto per la prima volta, non riscoperto, le fortificazioni un vertine e su di esse abbiamo intrapreso un percorso faticoso, lento, però coerente e coordinato di valorizzazione col Ministero dei beni culturali e con il demanio. Oggi lo offriamo alla comunità internazionale, quindi manifestiamo da subito in maniera che può sembrare forse anche un po' presuntuosa, ma che io credo corroborata da quello che vedrete nei prossimi giorni. Noi abbiamo l'ambizione di mettere Forte Siacci e le fortificazioni umbertine in concorrenza con le più grandi strutture di architettura militare dell'Italia, dell'Europa. Noi riteniamo che la particolare collocazione strategica che nel 1904 l'almiraglio Taonde-Revel decise di dare a questi forti per controllare lo stretto di Messina, oggi faccia parte di una strategia più grande. Sindaco, lo devo interrompere un attimo perché stiamo un po' lunghi coi tempi. No, la cosa che volevo dire è che questa biennale è anche diffusa perché è anche in altri luoghi, ma qui c'è la mostra, c'è la call to action, lo spiegheranno meglio i curatori. Devo dire che così come è successo a me ieri sera, quando i curatori sono entrati in questo luogo si sono innamorati, quindi tutte le sue parole sono legittimate anche da questa scelta ovviamente. Grazie a voi. Grazie. Grazie. A questo punto la parola ai curatori, Alfonso Femia. Ti passo il micro, c'è quello? Scusa. L'altro è là? Allora, io faccio una brevissima presentazione per dare la possibilità di avere un dialogo con le istituzioni, giusto per raccontare esattamente cos'è questa biennale dello stretto e per non uscire da logico che abbiamo cercato di evitare in questi anni con tutti gli amici l'ordine di Reggio e di Messina relativamente al tema... Mi mettete le slide per cortesia? Sì, sì, potete sedere. E' molto importante che capiamo, l'abbiamo discusso già prima in alcune interviste, quanto, diciamo, quello che siamo preoccupati di fare in questo momento è quello, diciamo, di dare una ricaduta a tara di quello che è un percorso e, come vi ho detto, parte da lontano. Alcune di queste già, come vedete, queste che sono le insegne, potremmo dire, della biennale, sono già dei lavori estremamente significativi. Questa è Marco Introvini che poi terrà una lezione oggi, questo è Mario Ferrara che oggi purtroppo è ammalato ma che ha lavorato insieme a Introvini e Stefano Anzini sullo sguardo lungo lo stretto, dal punto di vista venendo proprio a fare un lavoro specifico in questi quattro anni. Quindi il fatto che partiamo di un percorso lungo quattro anni già indica un approccio, se posso permettermi, diverso rispetto alla contemporaneità odierna, che è quella, diciamo, di essere estremamente veloci, no? Di fagocitare tutto con la velocità, ahimè, dell'Instagram e quindi immaginare di creare un evento senza ascoltare, guardare, prendersi il tempo. Il Prensi in Tempo nasce da M3 Invisibile che è cinque anni fa, ma nasce da un evento che è del 2014 a la Biennale di Venezia e parla sull'importanza di queste due parole, il dialogo come strumento di progetto e il progetto come strumento di dialogo. Per noi è molto importante immaginare che questo, tra le tanti atti, avvenga proprio in questo contesto, perché quello che è stato fatto proprio in questi anni è la via di un dialogo che parte dal territorio e che oggi diventa significativo. E in qualche maniera, un po' come immaginiamo in questa illustrazione Maria Lai, è il senso delle parole e il significato anche con cui noi ci siamo ritrovati in questo percorso. Ed è per quello che in qualche maniera due parole sono state il modo con cui è stata avviata questa ricerca. Come ogni artista, architetto, urbanista, politico, scrittore, fotografo ha reagito a Mediterraneo invisibile. Penso che ascoltare il sindaco prima che abbia dichiarato, senza averci mai parlato veramente, chiaramente sul significato, l'invisibilità che oggi ha tutto il Mediterraneo, come punto di ripartenza è estremamente significativo. E l'altra è quella per cui il mio amico Giorgio mi prende in giro, ma che ha un significato che non vuol dire fisicamente veramente riposo, ma è quello che stiamo facendo qua, introdurre un tempo lento dentro la dinamica della velocità contemporanea. E vi traduco cosa vuol dire tempo lento, ognuno di noi non fa questo mestiere, però ognuno di noi, e molti, io sono solo quello che in questo momento sul palco, ma parliamo di decine di due persone, che sono professionisti, architetti, che fanno tutt'altro per sopravvivere, si è preso un tempo in questi anni, si è preso un tempo in questi mesi, si sta prendendo un tempo in questi giorni, che è un tempo lento perché rallenta, se non stoppa, tutte le nostre attività quotidiane, dedicando a questo progetto. Allora, questo è quello che noi traduciamo in maniera concreta come atto di responsabilità e generosità. E la forza che a me ha fregato, ve lo dico sinceramente in questi quattro anni, è qua, è che ogni anno l'entusiasmo che si è ritrovato in questo contesto, in questi viaggi, è stato eclatante, ed è il motivo per cui ogni anno abbiamo accelerato queste indicazioni. L'accordo interessante è che abbiamo sempre portato questo sguardo internazionale tra mappe diverse, che sono i contributi dei primi pubblicazioni similaterali invisibili, dove nelle mappe, via via, i nomi delle città, per noi, i nomi delle persone che stiamo incontrando, i nomi dei diversi contributi, e ovviamente anche il tema di ridisegnare, ripensare, come con l'immagine che abbiamo fatto di come perdere il nord, ribaltando il nord e il sud, ma vuol dire anche ribaltare l'est e l'ovest, dal punto di vista che come concetto è complessivo, o l'idea di una mediterranea, quindi una grande città che sta nel Mediterraneo, che va concepita in maniera assolutamente unitaria. Fino a un tema, avremo un contributo anche di Federico Parolotto, sul tema oggi delle connessioni, questo vuol dire oggi rispetto a una visione del passato dell'aeroporto al Mediterraneo. Fino a un tema ovviamente di immaginare, noi dobbiamo nutrirci e di immaginare, è il modo con cui noi possiamo parlare, e qui l'arte inserisce in maniera molto importante. Fino a un'idea di ponte, questo è per scogliere, ponte intendo dire, se qualcuno mi ha chiesto ultimamente, un ponte che può stare tra questi due contesti, esiste già un ponte per noi come inizio, che è un ponte culturale, che la Biennale oggi mette in campo, proprio perché ha sempre messo insieme le due rive in maniera significativa. E poi c'è un tema di sensibilità, di poetica, questo è un lavoro di Michelangelo Pugliese, e che vuole essere anche questa Biennale. Questa Biennale ha trasformato un luogo di 11.000 metri quadrati, il maxi è 17.000 metri quadrati, il maxi è un'istituzione della città di Roma, è del ministero, è finanziato, e con difficoltà va avanti, è una grande istituzione del mondo. Questo è 11.000 metri quadrati. E in due mesi, in 11.000 metri quadrati, grazie a tutti, qui sta avvenendo qualcosa che è degno di un museo. Quindi se devo fare una competizione, non lo farei tanto con le fortezze qualificate, ma lo farei con i grandi musei, con i grandi laboratori di cultura internazionale, perché qui l'abbiamo fatto mantenendo anche tutto l'aspetto dell'abbrere del coro. Proprio a Venezia lanciamo un orizzonte, e tra l'altro noi stasera inauguriamo anche un evento importante, che è stato anticipato attraverso il Festival del Cinema di Venezia, presentato a settembre, che ha anticipato la Biennale di Venezia, proprio con un corto cinematografico di un premio, qui ci saranno i curatori, stasera avremo Cristiano Trovaglioli, premio Oscar per il film con Sorrentino, qui avremo delle figure che hanno deciso di venire qua proprio per raccontare nelle diverse dimensioni. Ma io vi sottolino questa frase, che mi sono permesso di scrivere in questi ultimi mesi. Essere mediterraneo non è una questione di atto di nascita. Non è perché noi siamo nati nel Mediterraneo, vuol dire che siamo mediterranei. Bisogna ritornare a un'idea di Mediterraneo che mette insieme questo aspetto. Il tema del viaggio, inteso non come trasporto tra un luogo e l'altro, è un tema di reale immagine, il tema del dialogo, il tema del confronto. Giustamente in questi giorni abbiamo discusso sul fatto che la parola inclusione fosse una parola sbagliata oggi, che forse bisogna lavorare su un'idea di accorciare le differenze, capire tutto il contrario, perché poi spesso le parole, ritorno alle stesse parole, automaticamente definiscono dei perimetri. Una delle cose che non vogliamo è che questo definisca dei perimetri. E ovviamente è il tema di volgere lo sguardo e riscoprire il senso del tempo. Io adesso vado veloce per farvi capire che in questi anni siamo partiti dal territorio. Siamo partiti dalla Mendolea, tra l'altro da Galicianò, siamo partiti da Fiume di Nisi, siamo partiti da tutti quei posti piccoli, quasi che non si attraversano, che non sono luoghi di destinazione e che invece sono elementi presidi fondamentali per capire questo territorio. L'abbiamo fatto contestualmente sulle due rive per far capire che c'è un'unitarietà forte, unica, straordinaria, che mette insieme tutta una serie di rapporti negativi forti. Abbiamo fatto come un primo viaggio, emozionante, grazie a Salvatore Greco, ovviamente al Musaba, dove ho avuto la possibilità di incontrare il grande Anix Patari, che è anche quello un luogo magico, fino ovviamente a scoprire tutti i grandi comuni e le grandi situazioni legate al contesto territoriale. A questo tempo si sono anche scoperte cose, qui siamo su Palmi, sul tema, diciamo, di un racconto, diciamo, di quello che lo sguardo. A tutto questo elemento, e parliamo di quattro anni, parliamo di quattro viaggi, parliamo di un momento anche istituzionale in cui prima di fare responsabilmente questo passo abbiamo chiesto a Roma, grazie a Francesca Agottino, grazie, diciamo, all'iniziativa della Biblioteca del Camere Deputati, se immaginare di costituire un biennale dello stretto poteva avere un significato nazionale perché l'obiettivo non è, ripeto, fare un evento, non è fare l'ennesima biennale, è il motivo per cui non l'abbiamo chiamata biennale dei Mediterranei invisibili, perché sarebbe stato mediterraneo come tante biennali mediterranei, la biennale dello stretto ha una specificità, un'identità forte legata a questo luogo e una delle cose che anche Donorio Sgarbi ha detto è che è vero questo aspetto, se si deve pensare a una città forse è più deputata a Napoli, forse Bari, forse Palermo, ma il fatto che voi proponete per la prima volta un biennale che è un territorio, che sono due città metropolitane, che va oltre le due regioni e che ha presenza unica, la rende unica a regione europea e quindi è un elemento su cui assolutamente, almeno in quel momento, poi vedremo, c'è stata un grande adesione all'interno. Questo vuol dire che l'atto di responsabilità è che a tutti i livelli abbiamo provato a confrontare questa iniziativa attraverso ovviamente un gruppo di ragazzi che poi vedrete e che esemplificano in queste immagini e che come vedete in quattro anni ha incontrato tantissimi luoghi, tantissime persone e che ha continuato anche per esempio in questa risorsa tenuta a Actonare e Zicconi siamo stati dentro i luoghi nel scoprire anche una logica di produttività forte legata all'idea del cultura e del territorio ma anche di coraggio restare sul territorio e innovare. Questo luogo è sparito grazie all'innovazione bellica e riappare forse attraverso un'idea di innovazione della cultura particolare. La generosità sta in tutte queste persone che abbiamo incontrato e che abbiamo raccontato e che abbiamo messo in qualche maniera in riflessione e poi sta in questa volontà se c'è un luogo che può esemplificare in maniera concreta il tema delle tre linee d'acqua che sono gli elementi che raccontano tutti i territori del mondo in tutte le parti del mondo ci sarà una linea d'acqua che è legata al crinale alla montagna c'è una linea d'acqua che è quella della piana ovvero dei fiumi dove tutte le civiltà sono costruite c'è una linea di costa queste tre linee qua in questo contesto diventano estremamente tese e questa complessità e tensione enfatizza problematiche ricchezze e sanità e sono anche estremamente energetiche quindi può essere elemento di riferimento per confronto con altre situazioni noi avremo qui i contributi di Melimed ovvero Tunisia Algeria Marocco Marsiglia Venezia studi che raccontano proprio come questo tema è un tema estremamente significativo attraverso la scienza al tema energetico al tema di riprendersi come dire cura e attenzione dei territori è ovviamente economico questo elemento mette insieme perché diciamo questo anche perché non vorremmo ricadere sull'idea che ci possa essere ogni volta un'iniziativa dal punto di vista di un tema che cambia questo tema della triline d'acqua ha bisogno di tempo ha bisogno che sia affrontato politicamente culturalmente tecnicamente ha bisogno di essere affrontato realmente credo che st'estate eravamo qua quando giustamente in questo contesto si diceva per la prima volta il tema dell'acqua viene percepito anche al nord perché hanno riappasso un'idea di tema di siccità quando in questo contesto ci si convive da decenni è estremamente interessante immaginare che l'acqua che è la materia fondativa di tutta la cultura milionaria dell'umanità è scomparsa è diventata invisibile nelle nostre azioni e la scopriamo o quando appare in maniera troppo evidente e ahimè nelle settimane scorse abbiamo visto anche che è successo nelle marche ma fortunatamente senza problemi anche qui a Scilla recentemente o quando sparisce ma sparire vuol dire anche mancanza di cultura è quello che ci insegna le fumare allora questo tema come avete che è già stato sviluppato che sarà fatto in una ricerca che gli atelier di Mediterraneo Invisibile che tutti i ragazzi e le ragazze stanno lavorando che diventerà un tema di confronto internazionale è il tema che secondo noi il territorio le due città metropolitane hanno da un lato come esigenze dall'altro come emergenze dall'altro come grande occasione per poter mettere a sistema i temi per poter riprendersi cura del territorio per poterlo fare con una visione molto più larga molto più ampia che deve partire in una scala molto più grande che vuol dire la geografia di questo territorio che vuol dire ovviamente comprendere le linee di tensione che vuol dire ovviamente metterò allo stesso tavolo chi governa le tre linee d'acqua o chi non le governa o di chi non se ne prende cura e questo luogo dimostra questo aspetto qua perché proprio parlando ieri col sindaco questo luogo non ha mai avuto problemi d'acqua ma recentemente in una nuova ahimè modalità di presentarsi come acquazione acqua qui ha avuto dei problemi per la prima volta questo può dire che se entriamo in una dinamica di responsabilità nel tempo non possiamo non capire che il territorio diventa un paesaggio capace vedete come ci confrontiamo sempre fortemente con l'acqua come però l'attraversiamo in maniera particolare di come abbiamo bisogno di questi contributi per capire che connettere vuol dire tante cose e come diciamo abbiamo già tutti gli elementi per comprendere quanto la costa la trama un'idea di grande parco territoriale dello Stato che non è un tema romantico il primo evento che abbiamo fatto è chiudo l'abbiamo fatto sulla Caronte con 30 persone avanti e indietro con un po' di dondolio per credo 7, 8, 10 volte non me lo ricordo abbiamo trasformato lo stretto in una piazza perché abbiamo discusso sulla Caronte sempre dispari assolutamente e la cosa con cui abbiamo iniziato è che vi ho detto non parliamo del Mediterraneo né in maniera romantica né in maniera simbolica lo diamolo per scontato entriamo nel vivo delle questioni entriamo dentro i temi fortemente e la cosa importante vi dico che qui parteciperanno e saranno l'inizio di una serie di ricerche almeno 5 case di studi fondamentali affronteremo il dialogo con la città di Cerve che sta sviluppando tutto un tema legato al grande parco diceva che oggi attraverso il cambiamento climatico ha avuto attraverso dei problemi di trombardare alcuni anni e che è stato adesso sviluppato un concorso importante che richiama tutta la linea di cose la città di Prato che lavora sulle due tipi di linee d'acqua c'è la città di Genova che sta sviluppando open fabbriche che presenta qui una mappa c'è la città di Algeri che lavora con il lago rettrostante e il tema dell'acqua davanti quindi architettura come responsabilità e progettualità in una biennale di Prima per Spia assolutamente sì chiudo perché è importante che capiste quanto siamo ambiziosi e quanto ci sia bisogno di tutti e quanto ci apprestiamo un tempo lento e veloce che ha bisogno soprattutto di voi e che crediamo anche che sia il tempo paradossalmente maturo finché questa venga perché se siamo riusciti ad arrivare fin qua che era quasi impossibile forse si può fare la parte che sia sempre più difficile perché quella diciamo dove la scommessa diventa in realtà è che ci apre a un tempo continuo chiudo solo un'informazione la biennale chiude il 15 dicembre avremo avanti due momenti significativi a metà novembre e a inchiusura e fino al 15 dicembre grazie a sindaco questo spazio sarà aperto nel weekend ma non solo per essere visitato perché abbiamo sollecitato le scuole c'è una scuola importante che è arrivata da Cosenza oggi che quindi ha attraversato la clave prima qua così come i tecnei con gli artisti affinché accadano dei momenti di confronto perché no anche dei confronti politici sociali in questo contesto che secondo me se posso dire sindaco ormai appartiene a tutto il Mediterraneo e non solo a Campo Calabro grazie grazie Alfonso Femia e sentiamo finalmente una voce di donna la co-curatrice Francesca Moraci abbiamo parlato prima fuori onda però ricordiamo il suo ruolo bene grazie devo dire Alfonso ha messo messo in campo talmente tante emozioni talmente tanta passione ma anche talmente tanta capacità di progetto e di idee per cui adesso vorrei riallacciare magari un paio di concetti da un altro punto di vista ribalto la questione come opportunità per opportunità di una politica territoriale urbana per questo territorio ma non solo ricordo ricordo anche alcuni temi che diventano passaggi fondamentali perché è vero che il tempo può essere istantaneo lungo infinito ma noi abbiamo un tempo in cui dobbiamo rispondere con idee e con progetti non abbiamo possibilità di rimandare noi abbiamo una visione del futuro che è separata dal presente il futuro è oggi è un continuo presente quindi ormai il tempo del dibattito direi è superato abbiamo un tempo del progetto e se dovessi fare una riflessione su questo territorio che è stato raccontato non soltanto nell'identità nell'opportunità nella capacità di espressione ma anche nel rapporto ovviamente con il Mediterraneo direi che il il nodo dello stretto passatemi questo termine che non è stato risolto mai a livello a livello nazionale a livello di paese nel rapporto tra le due città metropolitane di un territorio vasto complesso fatto da cento mille paesaggi allo stesso tempo ha in questa occasione quindi direi che questo sarebbe il tempo caerologico per così dire il tempo dell'opportunità ha un progetto ha un'idea che parte dalla consapevolezza dalla responsabilità dalla conoscenza ma anche dalla possibilità di mettere insieme più più pensieri che possono costruire è come se e l'ha detto anche Adolfo Pocanzi riannodassimo le maglie di una trama interrotta interrotta da tanto tempo da troppo tempo e oggi forse è quel tempo in cui le opportunità la misura la come dire il il passo verso una consapevolezza e la conoscenza possa dare al Mediterraneo un luogo in cui questo tutto ciò avviene e quindi in questo senso è simbolo non e in questo senso probabilmente era anche la riflessione che l'onorevole Sgarbi nel suo supporto ovviamente affrontava cioè perché è un territorio un territorio con la propria con tutta la sua complessità con tutta la sua opportunità sono più città sono più luoghi mette in campo per tessere un nuovo modo di pensare al futuro di pensare all'abitare il Mediterraneo tutto ciò che abbiamo visto in queste slide poi che cosa significa significa come noi abitiamo come noi viviamo ma come noi vogliamo essere al di fuori di alcuni recinti che ci sono stati costruiti abbattiamo gli schemi abbattiamo i recinti e pensiamo a un progetto culturale estremamente importante fondo che riesca a riannodare e nel contempo a lanciare ecco l'antenna del Mediterraneo dello stretto ecco il magnete assorbire e ridare quando io penso a questo penso a questo luogo come un essere vivente e lo immagino che respiri questo respiro di ispirare e ispirare è esattamente la capacità che ha l'acqua cioè la vita che ha la luce cioè la vita che hanno i paesaggi e quindi il nostro rapporto con la natura e con il luogo bene facciamo sì che questo respiro dello stretto sia il respiro del Mediterraneo grazie 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 Francesca Moraci allora ci hanno raggiunto sul palco Ilario Tassone che è presidente dell'ordine degli architetti e paesagisti di Reggio Calabria Carmelo Versace sindaco della città metropolitana Reggio Calabria abbiamo il vice sindaco del comune di Messina della città di Messina Francesco Gallo ecco io non vi conosco di persona quindi ok e poi abbiamo Paolo Brunetti giusto sindaco della città di Reggio Calabria centro funzione e Paolo Brunetti Giuseppe Zimbalatti che ho detto era in fondo alla scaletta chiedo scusa prego sì sarò sarò sintetico intanto benvenuti a tutti e grazie di essere qua presenti un ringraziamento particolare alla scuola di Cosenza che inaspettatamente abbiamo trovato qua stamattina che è stata veramente bello noi abbiamo creduto in questo progetto un progetto che nasce da un'idea di Alfonso Femia quindi non poteva nascere che da un architetto una visione di una proiezione verso il futuro quindi sta proprio nel DNA la visione di un architetto che è stata subito sposata dall'ordine degli architetti quindi dalla comunità da Salvatore Vermiglio con cui abbiamo iniziato questo percorso qualche anno fa e che abbiamo continuato noi come nuovo mandato abbiamo iniziato questo percorso appunto quattro anni fa quindi è qualcosa che dura nel tempo io lo ripeto perché è importante ribadire alcuni passaggi perché capire che questo non è un evento eccezionale straordinario cioè in questo caso si lo è però nasce da un percorso lungo e l'obiettivo è quello di farlo diventare non straordinario ma che diventi qualcosa di ordinario perché l'obiettivo è appunto quello di farlo entrare nella cultura di tutti noi in questo momento quest'evento che stiamo organizzando che abbiamo organizzato mette una lente di ingrandimento sull'aria dello stretto quindi c'è un focus importante quindi c'è un'attenzione in questo momento a livello nazionale se non internazionale su quello che stiamo facendo quindi c'è c'è una grossa responsabilità quindi per tornare ai temi e alle azioni di cui si parlava prima e in tutto questo noi abbiamo un ruolo fondamentale l'obiettivo è quello di andare al di là dell'individualismo quindi al di là della città di Reggio o la città di Messina ma un ragionamento a grande scala quindi stiamo ragionando di area dello stretto di territorio stiamo ragionando di connessioni che creano però delle relazioni non dei semplici collegamenti ma delle connessioni che a loro volta innescano qualcosa di nuovo e questo sta succedendo in questo luogo sta succedendo perché abbiamo contestualmente l'architettura abbiamo l'arte abbiamo le performance abbiamo lo spettacolo abbiamo l'omicultura progetti quindi abbiamo concentrato in uno spazio in questo caso questo ma anche su Messina sull'altra sponda una serie di attività e di sinergie che è qualcosa di straordinario ieri sera eravamo con Alfonso qua che passeggiavamo per vedere se tutto funziona a un certo punto ha fatto una battuta Alfonso dice ma guarda sarebbe una follia già una follia che se qualcuno ti pagasse per fare questa operazione cioè noi lo stiamo facendo mettendoci dei soldi di Tosca Nostra quindi a voi e poi le considerazioni su tutto ecco io chiudo l'intervento ringraziandovi ancora e per dire che noi su questo progetto ci crediamo ci crediamo veramente tanto e consideriamo di farlo diventare appunto laboratorio permanente sul territorio dove si possono innescare dei processi di ragionamenti di trasformazione del nostro territorio in cui il sistema a rete che abbiamo messo in piedi tra le varie istituzioni tra le varie forme professionali diventi qualcosa di strutturale di ordinario per portarla avanti e innescare appunto delle trasformazioni in cui le buone azioni che vengono fatte sul territorio vengono portate come esempio per attività future quindi portiamo avanti le eccellenze del nostro territorio con la consapevolezza che siamo sì il sud d'Italia ma siamo anche il centro del Mediterraneo grazie grazie Lario Tassone adesso il sindaco Carmelo Versace città metropolitana di Reggio Calato sì grazie benvenuti a tutti e per rubare le parole di Alfonso Memia guarda che il sindaco Repaci è molto geloso dei suoi beni quindi il fatto che oggi abbia detto pubblicamente che lo condividiamo questo bene abbiamo strappato una grande una grande promessa era luglio se non sbaglio quando ci siamo incontrati in città metropolitana non so quanti erano gli architetti e lo staff che accompagnavano Alfonso e penso che ci abbiamo impiegato poco più di qualche minuto a decidere insieme al presidente dell'ordine di approfondire immediatamente non la tematica del Mediterraneo in senso sentimentale per come appunto ci ha monito nel suo intervento Alfonso Femia di non ricordarlo ma proprio per l'opportunità che ne potevamo avere e se non ricordo male mi correggeranno i presenti la prima cosa che ho detto è dobbiamo coinvolgere immediatamente la città metropolitana di Messina perché se a queste latitudini non cominciamo ognuno di noi a partire dalle istituzioni a fare non un passo indietro ma cento passi indietro ed evitare quelli che sono dei campanilismi che ormai probabilmente forse soltanto in quel nord o sud rispetto a quella bellissima foto che abbiamo visto dentro e che avete capovolto e rappresentato qui non proviamo a fare allora significa che questa opportunità diventerà ancora una volta un'on opportunità sprecata per il nostro territorio probabilmente dovremmo anche iniziare a parlare lo si fa forse ancora molto di rado delle due città metropolitane ma dovremmo cominciare a parlare molto di più di area metropolitana dello stretto perché non lo dico io non faccio una scoperta noi i nostri territori hanno molto in comune e hanno molto poco in comune con i territori limitrofi delle due delle due regioni quindi questo non perché si voglia prendere le distanze ma perché appunto abbiamo delle cose che ci accomunano e queste cose che ci accomunano vanno messe a sistema come diceva la professoressa Moraici che ringrazio per il lavoro che viene fatto in questo territorio che badate bene non è un lavoro che parte un mese fa due mesi fa ma per arrivare a questo straordinario imponente risultato ci sono settimane mesi e anni di lavoro di progettualità che oggi ci permettono di poter vivere queste sensazioni che vi assicuro che sono veramente veramente fantastiche e il sentire dire ancora ad Alfonso che può essere fruibile dalla cittadinanza soltanto il fine settimana e questa è una è una cosa che dico a me stesso che dico al sindaco è una sconfitta della politica perché noi dobbiamo ovviamente fare di tutto ovviamente cercando di aiutare il sindaco Repaci e ovviamente tutti voi affinché questo sia un sito fluibile a 360 gradi questo deve diventare uno dei siti d'eccellenza del Mediterraneo ma come punto di riferimento reale non soltanto per i nostri concittadini lo dicevate voi non l'ho detto io e sono contento che l'abbiate detto voi anche di un confronto politico a volte proprio per mettere a sistema delle relazioni che mi permetterà il vice sindaco a cui faccio un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura che si troverà ad affrontare in Parlamento proprio per quelle che sono le sfide che da questo territorio partono non la faccio lunga perché è giusto anche oggi ascoltare e portarsi a casa un qualcosa su cui lavorare noi come città metropolitana non ci siamo a parole noi già te l'abbiamo detto ve lo abbiamo detto ma vogliamo concretamente provare a dire la nostra parte e non vogliamo soltanto partecipare a delle manifestazioni ma vogliamo provare a fare qualcosa che possa restare dentro questo territorio e far sì anche che in manifestazioni importanti come quelle di Venezia si possa parlare della Biennale dello Stretto come non un appuntamento ma come sporadico ma come un evento storicizzato che possa veramente essere punto d'eccellenza per tutto il nostro sistema paese grazie prima di ripassare la parola sollecitato da questo rifacciamo una precisazione la Biennale chiuderà in un momento importante tutti insieme il 15 dicembre e da qui al 15 dicembre uno dei tavoli a cui daremo grande continuità esperienza e ovviamente energia sarà questo che avete appena detto nel senso che abbiamo lasciato passare le lezioni quindi in questo momento ci saranno due mesi possibili in cui tutte le istituzioni che stanno ad oggi hanno aderito concretamente con entusiasmo all'idea si possa insieme lavorare con l'idea di questo percorso che hai appena descritto ribadisco l'atto importante ringraziamo è stato poche settimane fa firmato un protocollo d'intesa che le formalità io sono per la sostanza non per la forma però quella formalità che era sostanziale è significativa anche perché ha avuto un grande ritorno a livello nazionale internazionale e adesso vedo oggi verrà qui un gran prida scettatura importante come dire abbiamo delle figure significative proprio perché credo in un percorso che è più simile come dire ritrovare in Europa quindi abbiamo già fatto grazie a voi un atto molto importante e da qui a dicembre dobbiamo costruire i prossimi tre anni che hanno bisogno di tutta l'energia e noi la stiamo dimostrando nostra ampia ma sicuramente della vostra grande volontà e quindi prendiamo le lettere e tu sei sempre stato preciso se io posso permettermi di approfittare di questa location che anche in termini di informazioni darà quel messaggio l'invito lo faccio io formalmente a tutta la nostra deputazione calabrese e siciliana affinché ognuno si faccia portavoce di questo progetto e non si arrivi come al solito alla fine per dirci appunto di un'opportunità sprecata questo non deve essere un fardello dell'uno dell'altro ma deve essere un'opportunità per tutto il Mediterraneo quindi io non ho motivo di pensare che questa cosa debba essere sposata da tutti i neoletti ma anche di coloro che ovviamente continueranno a lavorare sui nostri territori chiedo solo perché non so c'è qualcuno del Presidente dell'Ordine scusa del Presidente dell'Ordine sono andato tu dell'Ordine dell'Architetti di Messina perché avevamo invitati perché se c'è ovviamente vorremmo il rappresentante o se c'è il Presidente sul parco lo dico perché poi nella furia non vorrei essermi perso dei passaggi importanti prego adesso diamo la parola come il testimone è stato passato a Francesco Gallo vice sindaco della città metropolitana di Messina prego buongiorno grazie a tutti di questa opportunità per me come già anticipavo in un'altra occasione quando l'abbiamo presentata questa idea della Biennale dello Stretto e tutto ciò che fa riferimento al rapporto tra le due sponde ha personalmente un significato particolare ripercorro ogni volta la strada che i miei nonni fecero 90 anni fa per trasferirsi a Messina partendo dalla provincia di Reggio Calabria e mi tornano in mente sempre quelle quelle storie personali che poi sono storie di un popolo che spesso hanno visto in questo piccolo lembo di mare una barriera che li separava anche dalle loro origini dalla loro cultura dalla loro storia che forse è il primo il primo ostacolo da superare non con un ponte ma materiale ma con un ponte culturale che che ci faccia riscoprire tutti un po' parenti quale in effetti siamo per tante ragioni Messina crede in questa iniziativa crede moltissimo la città metropolitana di Messina il comune di Messina se non l'avesse dimostrato abbastanza lo ribadiamo in questa sede e lo farà sentire ancora più concretamente nell'andare avanti perché questo è un discorso abbiamo detto aperto certo il susseguirsi di amministrazione il dialogare con persone diverse sicuramente non non contribuisce ma come si dice le idee camminano con le gambe degli uomini e delle donne in questo caso le vostre sono molto solide e le idee pienamente condivise quindi nessun campanilismo io anzi ho voluto esserci sempre ogni volta che sono stato invitato proprio per sottolineare quanto fosse importante questa iniziativa e per sopire magari qualche accenno di malumore sede due iniziative in più si facevano da una parte una in meno dall'altra non è questa la strada la strada è quella di collaborare e dare il massimo su tutto ed essere presenti e non so se probabilmente questa è l'ultima iniziativa che farò da vice sindaco ma avendo avuto questa occasione di andare in Parlamento sarà la prima che faccio da deputato e mi metto già da ora a disposizione per tutto quello che sarà possibile certo non sono della materia come sgarbi ma insomma qualcosa potrò fare tra l'altro lo conosco siamo amici e saremo tutti insieme dobbiamo essere tutti insieme come deputazione di Messina di Reggio Calabria e non solo a sostenervi a sostenere una cosa importante cioè che non solo la centralità dello stretto ma il fatto che da qui debbano il tema del viaggio debbano viaggiare le idee debbano viaggiare non i giovani che se ne vanno ma le idee che questi giovani possono spendere su questo territorio è chiaro il Mediterraneo comincia a Istanbul se uno pensa a Istanbul dice ma in fondo lo so che è ambizioso paragonarsi a Istanbul però un territorio vasto che vive come se fosse un'unica realtà urbana sicuramente si propone con un altro tipo di autorevolezza un po' di ambizione non guasterebbe e soprattutto occorre il contributo delle nuove generazioni perché devono vivere questo territorio non come il punto di partenza della loro vita non come il punto di passaggio tra un'esperienza formativa e una lavorativa questa è l'ambizione più grande e su questo che è un tema importantissimo io credo che voi riuscirete a dare un contributo forse inaspettato ma sicuramente importantissimo grazie non vi rubo altro tempo grazie mi dà solo uno spunto per dire due cose intanto la pigliamo le lettere a Istanbul mi sembra un ottimo riferimento ma c'è anche un architetto che ha fatto capire voi ci sono due lavori qua presenti uno di Luke Begley un grande fotografo internazionale che è andato a Tinos a fotografare una delle isole in cui erano le partenze dei colombi che era il sistema dell'antichità con cui si comunicava nel territorio e poi un altro che ha lavorato con l'idea delle colombaie nuove che proprio lavora sui quattro stretti dal punto di vista che il Mediterraneo propone e quindi uno dei stretti ovviamente è quello oltre a Gibiliterra è proprio quello di Istanbul vorrei chiarire su una cosa importante e la ringrazio la biennale si sviluppa in cinque giornate trovare due e mezzo su Reggio Calabria due su Messina importanti uno al museo regionale significativo e ringrazio il direttore Francesco che ci ha dato questa opportunità perché noi faremo questo evento a fianco a Caravaggio Antonio da Messina e quindi dentro questo percorso culturale significativo e chiuderemo così come iniziamo e come ogni volta abbiamo iniziato sempre da una costa e chiuderemo in tutta una giornata conclusiva il quattro di questi primi cinque giorni a Messina alla fondazione Orcinus nel senso che Messina ha passato il testimone all'evento poi del 12 e poi del 14 questo per dire che sicuramente abbiamo voluto fare uno spazio con i ragazzi poi con Francesco Messina con Scarcella Ciappina Ciappina e gli altri uno spazio così anche su Messina ma proprio per le vicissitudini tra l'altro io ringrazio e so che non può esserci qua l'assessore Mondello che è sempre stato presente sia prima che poi stato e dopo e che quindi ha dato una spinta importante insieme naturalmente alla superwoman Maria Angela Cama dal punto di vista della costa dal punto di vista calabrese quindi che ci ha permesso questo aspetto grazie sì grazie Alfonso tra l'altro questo tema dei giovani che possono anche non andare e possono stare è molto importante Paolo Brunetti sindaco sì scusate per Anna Carulli per l'ordine architetti di Messina direttore presidente della fondazione architetti mediterraneo è con noi Anna Carulli eccola prego c'è un po' di affollamento sul palco adesso io scendo ok però farei darei la parola magari a Paolo Brunetti no sindaco facente funzione c'è Taria Reggio Calabria prego buongiorno buongiorno e intanto grazie mi avevano detto di un progetto ambizioso ho detto io che sarà mai un progetto ambizioso non appena ho varcato il cancello di questo forte anzi prima quando ci siamo incontrati fuori ho già inteso avevo già inteso la portata dell'evento e non posso che complimentarmi ma non solo per questo ma per tutto quello che sto riscontrando durante la discussione primo su tutti il lavoro sinergico che c'è stato a queste latitudini non è facile coinvolgere tante istituzioni e riuscire a farle lavorare con tranquillità con la costanza che è servita dei quattro anni che avete detto perché spesso c'è sempre qualcuno che molla a un certo punto dice no è troppo lungo quindi per la costanza per la lealtà mi permetto di dire nei rapporti che ci sono stati e poi per il tema a me molto caro che era con me vedo Maria Angela Cama che saluto con affetto il tema dell'acqua e credo che forse delle tre linee d'acqua e credo che forse quest'anno sia l'anno in cui si ne è parlato di più per tanti motivi quando ce n'è stata troppa e quando ce n'è stata poca prima facevi un passaggio dicendo quest'anno c'è stata la siccità al nord e hanno sofferto poveri noi è da 40 anni io ne ho 45 e da sempre mi ricordo questa carenza è più di 45 quest'anno noi non abbiamo patito la carenza d'acqua perché la patiamo da 45 anni e siamo molto allenati quindi nella sofferenza abbiamo un'ulteriore opportunità dire noi come abbiamo sopravvissuto per 45 anni in queste condizioni e magari ora se qualche città un po' più potente di noi mi permetto questo termine affronterà il problema magari affronteranno anche il nostro problema inascoltato da anni e anni 1888 Sandro dove è? diceva in 4 anni hanno costruito questo e torno di nuovo al tema dell'acqua in questa città in questa regione ci abbiamo messo 42 anni ad attivare una diga e arriviamo sempre al tema dell'acqua 42 anni per attivare la diga del menta allora queste sono occasioni nelle quali queste cose bisogna dirsele bisogna affrontarle e possibilmente trovare una soluzione la condivisione di queste difficoltà la condivisione di queste opportunità condivise con tutti vedo con piacere il vice sindaco di Messina dove siamo freschi da una campagna elettorale dove ogni 5 anni ci ripropongono sempre il ponte sullo stretto dopodiché non se ne parla più ora a prescindere che ci sia parere favorevole o contrario sulla costruzione del ponte ma bisogna decidere altrimenti ci sono altri sistemi per poter collegare in maniera migliore la città di Reggio e Messina però bisogna prendere una decisione guardiamo questi 3 chilometri e mezzo di mare non come una divisione ma come un elemento l'acqua che unisce le due sponde e cominciamo a parlarne noi col sindaco metropolitano Versace col sindaco Basile abbiamo avuto anche incontri ultimamente per discutere sul rilancio del nostro aeroporto che può essere un'opportunità anche per la città di Messina e per l'intera città metropolitana di Messina anche lì con molto piacere devo dire che ho riscontrato una sinergia tra gli enti e la voglia di mettere fine a questi campanilismi che ci sono spesso ci sono stati e che continuano ad esserci a queste latitudini paradossalmente forse per tranquillizzare il vice sindaco noi soffriamo più di campanilismi dentro la regione anziché con la città di Messina questo ci tengo a dirlo forse soffriamo più di competizione tra Catanzaro forse un po' meno Cosenza che con la città di Messina io l'ho visti sempre al di là del calcio vi ho visto sempre come amici concludo concludo nel dire e colgo al volo l'invito che ha fatto Carmelo Versace sulla deputazione questa è una cosa che dico spesso la ripeto anche in questa occasione nessuno può immaginarsi di salvarsi da solo adesso c'è una nuova compagine politica che guiderà il nostro paese per cinque anni e vedete io mi auguro che se un deputato un presidente di regione trova il tempo per fare una manifestazione scusatemi che lo dico qui ma è l'occasione giusta trova il tempo di brindare in piazza per festeggiare come giusto che sia la vittoria e trova il tempo per scrivere un'affermazione cacciamo la sinistra dalla città e dalla provincia di Reggio Calabria mi sarei aspettato che avesse trovato dieci minuti per venire a salutarci qui alla Biennale bisognerà e me ne farò io portavoce per andare a dirgli l'importanza e la valenza che ha questa Biennale nella nostra città grazie grazie allora io andrei avanti però a questo punto chiederei ad Anna Carulli un intervento c'è un microfono là voglio solo rispondere alla Sena perché noi daremo tempo a tutti Brunetti daremo tempo a tutti ognuno ai suoi impegni il tempo è lungo la Biennale è un progetto lungo quindi aspettiamo grazie intanto oggi sono qui appunto a rappresentare la fondazione degli architetti nel Mediterraneo di Messina quindi il nome già come dire posso fare una battuta che ha suggerito prima Francesca questa cosa della nazionale della squadra di calcio dello stretto mi è piaciuta molto per mettere tutti d'accordo non si potrebbe mai dire come dire fare non so Sponda Piemontese Lombarda del Lago Maggiore però potrebbe essere una bella idea prego potrebbe essere un campionato del Mediterraneo giochi del Mediterraneo prego quindi stavo dicendo che il nome di qualquanta appropriato della fondazione per cui io sono presidente da appena un anno ma credo che le azioni sul territorio che in questi anni come appunto dicevi prima Alfonso che avete come dire tessuto nel ricuscire il territorio in quelli che sono questi legami secondo me che esistono nell'identità proprio radicata ma che poi nelle istituzioni scusatemi non voglio fare polemica ma è soltanto un accenno facciamoci autocritica nelle istituzioni quindi nel rappresentare il territorio a volte veniamo meno quindi rappresentando il territorio e questi legami che sono veramente radicati nel ricuscire le azioni come ben definito poco fa tu credo sia proprio il desiderio di dare voce a tutti quindi non solo chi può rappresentarci perché a volte strada facendo gli uomini fanno degli errori invece l'identità del territorio è fondamentale rappresentarle è difficile quindi questo legame ideale che è sempre esistito quindi parlando di ponte sullo stretto cadiamo nelle discussioni sì no ponte sì ponte no ma esiste un legame importante fra la governance del territorio e a questo noi dobbiamo dare forza e quindi tutti noi dobbiamo fare uno sforzo proprio per essere sempre come dire dare forza a questi eventi che voi ben avete tessuto in questo periodo io ho osservato in questi anni anche colleghi che a Messina e quindi non li cito tutti perché dico le vedi ho citati già prima come come ex consigliere dell'ordine ho visto il lavoro importante sul territorio fatto proprio anno per anno proprio su quelle che erano delle piccole manifestazioni ma non piccole nei contenuti piccole in senso proprio di radicamento nel territorio e non posso che ringraziare intanto anche Francesca Moraci perché con Francesca dico abbiamo fatto tantissimi percorsi ma tu hai dato veramente come dire una forza e una come con la tua tenacia e con le tue azioni quindi ripeto la governance del territorio quando ci citano anche i decreti o comunque le normative è proprio questo cioè dare voce e forza a quello che è anche il ruolo dell'identità territoriale complimenti a tutti allora in attesa perché Giorgio supporto Giorgio che deve fare delle interviste l'università mediterranea le due sponde intanto salutiamo che oggi non può essere con la cunzio crea l'università diciamo di Messina che è estremamente importante poi c'è un rappresentante magari lo invitiamo sul palco siamo su Reggio abbiamo un nuovo lettore quindi sarebbe importante avere un suo contributo l'università lo dico da chi è incontrato l'università di Genova pur essendo calabrese e quindi è cresciuto a Genova ed è stato luogo importante soprattutto perché era fortemente parlo dell'87-92 quindi 5 anni anche di grande trasformazione nella città l'azione urbanistica più importante a livello europeo è venuto sapete per quale motivo perché a un certo punto la facoltà di architettura secondo una grande intuizione del famoso rettore benvenuto ha poi preside ha portato nel centro storico di Genova che in quel momento non era assolutamente avvicinabile pericoloso quindi lo spostamento di una facoltà di architettura con 3.000 studenti è stata l'azione più rigenerativa dal punto di vista sociale economico e di rilancio del centro storico nessun'altra pianificazione è mai riuscita a fare questo questo per far capire quanto la formazione al di là del suo valore intrinseco è strettamente connessa con la politica di una città e con intercettare le fragilità dei tempi e con questa piccola difficoltà ti passo la parola grazie purtroppo non abbiamo il sindaco di Campocalabro però volevo esprimere diciamo attraverso una metafora i complimenti per quest'opera che avete avviato e portato avanti in questa maniera insomma come dire si parlava di polveriera allora dobbiamo dare atto sia al sindaco che alla professoressa Moraci che al direttore Femia di averla fatta veramente esplodere questa polveriera è veramente è un'esplosione di entusiasmo e di cultura che ci travolge e mi unisco alle parole di entusiasmo che hanno espresso prima di me i rappresentanti delle più importanti istituzioni politiche del territorio è un'esplosione veramente di entusiasmo e di estetica di bello c'è molto bisogno nel nostro territorio di riscoprire tutti questi ambienti tutte queste straordinarie realtà che come peraltro è stato ben descritto dal sindaco erano nascoste laddove ce ne fosse necessità l'opera che oggi vediamo opera di tante donne e uomini impegnatissimi in altri campi ma che hanno prestato il loro contributo qui e ci dimostra ancora una volta come dicevo prima laddove ce ne fosse bisogno che non abbiamo da importare o da inventare nulla come territori siamo ricchissimi di straordinarie opportunità si tratta di impegnarci sempre più in sinergia tutti assieme per riscoprirle e valorizzarle questo vale per opere architettoniche opere strutturali come queste ma vale un po' in tutti i settori nei settori dell'agricoltura nei settori della produzione ci sono veramente opportunità da riscoprire e valorizzare l'università per cogliere la provocazione del direttore Femia il suo contributo con un po' di orgoglio penso di poterlo rire lo ha dato lo dà e lo darà e lo sta dando alla grande con la presenza della professoressa Moraci che veramente secondo me si merita un bel applauso perché tra l'altro oltre ad essere riconosciuta per le sue straordinarie capacità scientifiche e didattiche lo è anche per il suo straordinario attaccamento al territorio al territorio dello stretto quindi lei originaria messinese insomma di nascita ma calabrese regina di di lavoro diciamo di fatto perché è una nostra docente per cui chi meglio di lei incarna questo spirito dello stretto dell'unione di questo mare che non divide ma ovviamente unisce e come università ci vogliamo essere e siamo grati di questo coinvolgimento intanto per una grande opportunità che viene data ai nostri giovani alle nostre studentesse ai nostri studenti di frequentare degli ambienti che sono un esempio io tempo fa ho parlato che nei nostri territori c'è sempre più bisogno di esempi piuttosto che di consigli e questo è uno straordinario esempio che sarà veramente di grande valenza per i nostri per le nostre studentesse i nostri studenti ma anche e spero in un ampio coinvolgimento delle scuole del mondo diciamo del mondo scolastico mi auguro che sia oggetto di visite da parte dei nostri studenti e le scuole di ogni ordine e grado perché c'è per tutti qui da imparare e da apprezzare e per chiudere proprio questa è l'importanza che voglio dare come rettore io porto ovviamente i saluti di tutta l'università mediterranea non a caso qualche decennio fa un nostro rettore ebbe questa idea secondo me illuminata di definire di denominare la nostra università mediterranea quindi che si sposa perfettamente con lo spirito di questa iniziativa molte volte non si riesce a essere all'altezza della propria delle aspettative e anche attorno a delle denominazioni noi su questo fronte ci vogliamo impegnare e vi ringraziamo veramente per darci questa opportunità e quindi dicevo io porto ovviamente il saluto e il ringraziamento di tutta l'università e la professoressa Moraci ovviamente è la nostra portabandiera come dicevo ma qui in quest'ambiente so che hanno prestato la loro attività anche e anche altri colleghi alcuni dei quali sono qui fra noi che saluto e ringrazio perché la nostra comunità accademica deve essere insomma sempre più unita e diversificata nel portare avanti insieme quante più cose possibili e colgo l'occasione anche per salutare il professor Costabile che è stato il rettore che mi ha preceduto che è anche qui proprio fra noi proprio per dimostrare il nostro proprio per dimostrare la nostra voglia di essere presenti e con una raccomandazione che faccio a me stesso come università e che estendo a tutti e che veramente questa bellissima attività che è stata portata avanti sia veramente il punto di partenza cioè cominciamo a riunirci per organizzare la prossima biennale dello stretto perché caro direttore vogliamo emulare l'esempio di Genova se noi ci beneficeremo ci alimenteremo a questa fonte di cultura solo per i 40 giorni i 50 giorni e non pensiamo sin da subito a programmare la prossima caro direttore qui noi siamo ovviamente dei positivi degli ottimisti non ci giriamo mai indietro se non per non ripetere gli errori che abbiamo fatto però ogni tanto ci dimentichiamo delle cose buone che facciamo e non le rifacciamo mentre magari le cose meno buone le ripetiamo e allora ecco questa è una cosa sindaco che dobbiamo evitarla per cui come università siamo tutti disponibili a lavorare sin da subito vista la buona riuscita che ha questa manifestazione alla migliore riuscita della successiva grazie visto come diceva ilario che nessuno ci paga noi romperemo le scatole affinché questa avvenga gentilmente aspetteremo ognuno io volevo anche poi rifare un passaggio perché prima è stata con noi la vicepresidente regionale la regione Calabria Giuseppe Princi che aveva lasciato anche un'intervista ha visitato la mostra e quindi poi aveva un impegno giustamente a Catanzaro quindi ribadisco anche un aspetto lo dico anche pur essendo andato qua però poi ormai vivo diciamo in Europa come si dice del Genova il luogo da cui parte torno io ho riscontrato con tutti però bisogna prendere sempre atto che ogni istituzione anche per il momento in cui si trova ha tutte le sue problematiche ha tutte le sue vicissitudini o meno e quindi c'è un tema di tempo io quando diciamo che c'è un tempo lento ma c'è anche un tema di lavorare col tempo vuol dire e quando faccio la battuta prima di aspettare vuol dire anche questo fare un progetto inclusivo non vuol dire che tutti devono partire con la stessa macchina con lo stesso pieno di benzina bisogna prima di tutto condividere e poi capire in quel senso saremmo incalzanti se con le proprie anche volontà ruoli situazione meno però contribuire credo che la cosa più importante è ognuno poi per quello che sente ma anche come dire dissente basta ritorno al principio di dialogo confrontarsi è per quello che l'università è importante ed è per quello innanzitutto che ho voluto a fianco non a fianco a me ma in questa identità Francesca perché Francesca mi ha incontrato in un metodo invisibile fin da subito pranzando il fatto che questa idea non fosse considerata sciocca da parte sua già ci ha dato coraggio dal punto di vista di correggere e di capire come costruire ma in qualche maniera perché lei tra le varie iniziative e attività risponde a un'attività significativa come quella formativa che non può non essere la prima risorsa di un territorio poi avete due università io ringrazio anche veramente il rettore di Messina che è stato iperreattivo devo dire che le università come le città metropolitane ognuna con le città metropolitane che però hanno subito lavorato in sinergia questo non lo date per scontato poi che magari avvenga perché arriva uno da fuori anche se sono di qua e quindi è calmo e tranquillo e dà il tempo va bene usatemi come si dice non c'è problema fate di me però sta succedendo qualcosa di importante che non è per niente scontato ma non solo qua non è manco scontato là o di qua o di su non è scontato quindi date veramente a valore questo io con queste parole devo introdurre Maria Angela Cama che anche lei non vorrebbe salire ma deve salire sul palco così devi salire perché Maria Angela Cama ovviamente che fa parte diciamo del comitato direttivo operativo io devo ricordare io lo darò e dirò un grazie però devo ricordare tante donne che voglio dire a cominciare cioè da Maria Angela ovviamente Francesca Roberta De Cecchi è quello davanti Valentina poi Simonetta Cengio che purtroppo è malata ma speriamo che ci raggiunga anche la mia partner che poi ha lavorato con tutte le ragazze dalla parte organizzativa sicuramente Maria Angela è stata come dire mi sono ritrovato la stessa filosofia martellante che abbiamo noi forse lei è ancora di più da questo punto di vista ma perché le donne hanno una massa in più quindi io ogni tanto dico vabbè ma ci arriviamo non c'è problema e quindi veramente un applauso perché senza Maria Angela Cama saremo qua ad avere addito anche a elementi molto concrete protocollo di interesse aspetto quindi ti tocca parlare ti lascio la parola grazie Alfonso grazie Alfonso io provo l'emozione veramente oggi nella mia veste triplice triplice molteplice sono felicissima perché avere qui le istituzioni tutte è un grande salto di cultura io ho notato negli ultimi anni e come dicevamo quando ci siamo incontrati l'anno scorso che abbiamo sposato appunto come territorio questo grande progetto dico assolutamente sì per ogni cosa c'è il momento giusto all'epoca ci dissimo proviamoci è una grande una grande sfida sembrava una cosa impossibile ma oggi è un grande risultato io provo l'emozione di vedere anche tanti ragazzi perché dobbiamo lavorare molto nel coinvolgimento delle professioni paradossalmente noto che è molto più pronta sono molti più pronti le istituzioni che noi magari come professionisti questa è una cosa che dico rimprovero sempre nel mio ruolo di consigliere dell'ordine dico dobbiamo lavorare molto dobbiamo trasferire la passione il sogno ma la passione veramente di conoscere il nostro territorio io grazie a voi guardando anche collegandomi sul sito e guardando la narrazione il viaggio che avete fatto in tutti questi anni in ogni luogo io molti posti non li conosco e credo diciamo che anche questo offrire insomma al nostro territorio questo patrimonio ricognitivo sia fondamentale perché se non si ha la conoscenza dei luoghi delle debolezze ma dei punti di forza non si può lavorare con quella vision che abbiamo noi diciamo da architetti e quello che mi sento di dire è che diciamo in modo del tutto gratuito ma gratuito in termini proprio di darsi completamente quello che ho accompagnarmi a voi sono stata fortunata perché mi avete preso con un treno il treno era in corsa e l'ho sposato subito è un progetto veramente straordinario come diciamo abbiamo bisogno di tutti quanti di tutti di tutti tutti non ci fermeremo qui abbiamo appunto continueremo sarò continuerò anche io a martellare e vi ringrazio veramente dietro di me come coordinatrice diciamo di questo comitato di indirizzo ci sono tanti colleghi veramente la nostra è una bella squadra non sto a elencarli tutti ma mi porto dietro diciamo il contributo e do il ringraziamento sono portavoce il ringraziamento di tutta la grande squadra di colleghi professionisti iscritti le scuole le istituzioni veramente abbiamo avuto un grande c'è stato manifestato proprio un grande entusiasmo quello anzi ci stanno chiamando in questi giorni che vorrebbero altri spazi noi li daremo a tutti perché io oggi non volevo neanche salire sul palco l'ho detto ad Alfonso e agli altri perché è utile ascoltare non siamo bravi ad ascoltare perché abbiamo sempre diciamo la mania del protagonismo comunque ecco salire sul palco e dire questa è una cosa mia l'ho fatta io io penso che bisogna dare spazio ascoltare tutti e avere la capacità di raccogliere il contributo di tutti quindi io vi ringrazio e per me è già un grande successo diciamo oggi avere tutti quanti qui grazie non posso chiamare prima o poi di avviare la seconda parte di Salvatore Vermiglio c'è un tema abbastanza importante solo per un saluto perché una delle cose che sta avvenendo in questa esperienza è la capacità di passarsi il testimone ma di entrare nel gruppo anche questa non è una cosa normale se uno magari risponde al momento in cui ha un ruolo e poi ovviamente come dire non dico che si disinteressa ma passa a qualcos'altro quindi con Salvatore nasce questo tema percorso che poi continua con Ilario però continua anche con lui perché in realtà il colpevole questa accelerazione è proprio lui che mi ha fatto visitare a maggio questo luogo ed è nato quindi così come ringrazio il pubblico è arrivato Marco Predari Marco Predari è socio fondatore con me della nostra società del 500% un percorso nato sette anni fa una società Benefit che poi adesso aggrupo una serie di aziende che non sto a citare ma sono tante e sono il motore di mettere invisibile del 500% diverse aziende significative dal nord Italia lo vedete hanno partecipato anche conoscendo diciamo il contesto perché credono a sette anni in questo modo come dire di fare cultura del progetto è una cosa anche lì che non do per scontata sia per il fatto che ci sia continuità perché poi magari one shot uno perché no ma anche perché ci si crede anche in un modo diverso sia di comunicare l'incontro Salvatore grazie Alfonso buongiorno a tutti saluto le istituzioni anch'io sono nella tripice veste in questo momento perché da ex presidente dell'ordine che ho abbracciato inizialmente nel 2017 con Alfonso questo percorso sono il mandante di questa location nel senso che portai un giorno Alfonso come lui ricordava perché avevo intenzione di porgli una domanda per una sua idea per come destinare questo luogo lui visitandolo ha detto facciamo qui la biennale e a quel punto mi sono rovinato perché ho dovuto coinvolgere il mio carissimo amico sindaco Sandro Repaci che ringrazio pubblicamente perché ha dato subito la sua disponibilità mettendo appunto a disposizione questo bellissimo luogo ringrazio ovviamente il presidente Ilario che ha seguito la mia follia insieme ad Alfonso e la professoressa Moraci ovviamente perché tripice veste perché sono ovviamente cittadino di questo comune sono stato anche vice sindaco nel lontano 92 assessore all'urbanistica Francesca quindi indegnamente e già all'epoca cioè vedevamo un po' lontano Sandro se ti ricordi per come destinare questo luogo oggi è una realtà questa nostra iniziativa spero che diventi ovviamente una realtà che continuerà nel tempo da ex presidente dell'ordine quindi sono molto contento ma soprattutto sono contento come architetto come colui il quale ha creduto in questo percorso e mi auguro che questo diventi veramente l'inizio una grande avventura che ci vedrà tutti quanti i protagonisti quindi grazie tante ringrazio Alfonso mi tocca no no ringrazio tutti gli elettricisti i salegnami gli operatori ce li ho tutti sulla coscienza io perché li ho costretti e quasi diciamo coinvolti in questa avventura sono contenti tutti hanno lavorato notte e giorno quindi è giusto che si faccia a loro praticamente un complimento per quello che hanno fatto sull'idea ovviamente di Alfonso devo ringraziare Alberto il collega architetto che ha fatto un lavoro immenso eccezionale quindi grazie a tutti devo dire la straordinità di Alberto è che ha sempre detto sì però neanche neanche col monosillabo quindi c'era come una grande fiducia però quando avevano detto bisogna pulire bisogna fare questo si fa si fa che vuol dire e questo fa capire anche la grande potenza perché si fa così da nessuna parte avrei avuto fiducia totale però questo si fa e poi quindi una grande dimensione zen quindi che sia orientale di origine e oggettivamente si fa e sono d'accordo con te perché questa condizione concreta di entusiasmo che si fa da chi ha posato la sabbia a chi ha messo le astre di legno o meno è una forza è un valore anche ed è la prima dimostrazione di generosità grandiosi grandiosi io faccio un ultimo giro ancora di racconti ti ringrazio perché è arrivato Marco Barani a cui vi chiedo attualmente è una conferenza molto importante poi lo introduco molto bene non posso naturalmente non e chiedo semplicemente almeno di alzarsi perché naturalmente i metri invisibili partono anche qui da una sequenza se puoi lanciare le slide o qualcuno poi le muovo da una serie di viaggi che nasce da un incontro con Francesco Messina che poi è qua e quindi chiedo di alzarsi magari venire semplicemente a salutare con Michelangelo Pugliese che poi porta Salvatore Greco che poi porta Garetano Scarcella che poi porta Ciappina che poi porta Luciano Marabello che poi porta quindi c'è una condizione stradiana tale per cui prego alzarsi perché siete colpevoli quanto me di questa condizione o se volete venire a dire qualcosa per cortesia ovviamente c'è sempre stato un gioco straordinario del fatto che ho sempre voluto che quelli di là venissero di qua facciamo i viaggi e quelli di qua venissero di là e quindi dovevo incazzarmi io per dirlo tutto perché poi si pigliano in giro ovviamente nel gioco come detto il sindaco ma sono stati stradina Garetano Scarcella tra l'altro è famoso per il fatto che un giorno a Fiumi di Nisi dove c'è un sindaco molto giovane quando abbiamo fatto tutto il giro diciamo la ricoperta dei percorsi tutti abbiamo visto da sotto Fiumi di Nisi il castello per vedere dove si verrà vallata e ha detto adesso andiamo lassù e ho detto ma lassù ci vuole un po' no dieci minuti e arriviamo su allora vorrei sapere che lassù c'è chi è andato con la macchina c'è chi è andata a piedi un'ora e mezza dopo dal punto di vista complessivo e poi resta un po' la nostra piccola via crucis arrivando lassù con una vista straordinaria abbiamo compito molte dei conceduti è stato straordinario perché va detto noi qui abbiamo portato a confronto a Rosarno i quattro sindaci della Piana a Rezziconi i sindaci di Cittanova Rezziconi e Tavianova dall'altra parte su tutta la riviera diciamo dal punto di vista della costa messinese paradossalmente lasciando fuori Taormino o meno quei luoghi ovviamente noti abbiamo trovato scoperto quindi vi chiedo di dire due parole Pugliese e Messina almeno vi saluti così poi introduco Mark Baranich che è arrivato che sta finendo di preparare le slide prego Francesco Messina grazie benvenuti a tutti e grazie soprattutto a Alfonso Femi a Francesca Moraci per averci trascinato in questa cosa che si parte in effetti qualche anno fa da questa avventura che ci ha proposto Alfonso di Mediterraneo Invisibili che è un viaggio che ci siamo un po' inventati e che partiva dalla necessità e dalla volontà di riconoscere e raccontare appunto dei paesaggi che non fossero strettamente quelli delle città di Messina e di Reggio Calabria che chiaramente sono i due poli più importanti ma che invece fosse legata a tutta una serie di realtà capillari che sono distribuite sul territorio dello stretto e che mostrassero anche come secondo me è avvenuto in questa situazione che è la cosa che mi preme di più sottolineare diventasse l'interagiatura di questo viaggio l'interagiatura di questa biennale l'interagiatura di qualcosa che in realtà si esprime sotto forma di una ricerca e non soltanto come un evento temporaneo legato a queste giornate quindi io sono veramente contento di essere parte di questo team di aver creduto insieme ad Alfonso a Michelangelo a Francesca Moraci e a tutto il team appunto che è stato citato prima in questo laboratorio e speriamo che tutto vada in modo migliore non soltanto nei prossimi giorni ma nei prossimi anni grazie io soltanto buongiorno a tutti un saluto un ringraziamento a voi che siete venuti fin qua dico solo due cose l'ho ribadito in una prima iniziale richiesta in cui veniva detto cosa per noi era questa biennale la cosa che io ho detto e che hanno confermato in qualche modo sia la professoressa Moraci sia Alfonso è che questa è la prima biennale che non nasce da una città da un luogo geografico ma nasce appunto da un paesaggio quindi con una sua forte riconoscibilità con forti valori quindi un luogo innanzitutto intellettuale del quale parliamo all'interno del quale ci riconosciamo e nel quale abbiamo deciso di fare questa biennale in questi mesi siamo saliti su un treno in corsa che abbiamo deciso in poco tempo e che negli ultimi mesi ha avuto un'accelerata fortissima e allora io dicevo in questi mesi anche a molti colleghi scettici amici ma con bontà diciamo rispetto ai tempi io ho sempre detto che la biennale si farà la biennale la faremo è un'opera aperta e chiunque voglia chiunque ha in qualche modo la volontà di salire su questo treno sono i benvenuti perché questa è soltanto una partenza questo è soltanto un inizio e c'è tanto da costruire e vi ringrazio grazie a tutti